Coach, a 15 a 15, un commento su questo match, un pareggio non facile e sudato? Sì, un pareggio che non ci aspettavamo perché qua ci voleva una vittoria, però da un lato sono anche contento perché la grinta c'è stata, abbiamo messo in campo una squadra molto diversa la domenica scorsa a frutto degli infortuni, un'assenza, un paio di squalifiche, in più l'infortunio di Filippucci già dai primissimi minuti ci ha costretti a rimescolare un po' la squadra, quindi anche da questo forse ha portato qualche errore e alla fine poi la squadra ha cercato in tutti i modi di portare a casa questa partita, però un po' troppo individualmente, invece di trovare la soluzione con la squadra ognuno ha voluto fare da solo. Chiaramente è apprezzabile che tutti provano, tutti mettono la grinta, però bisogna ritrovare la squadra nei momenti di bisogno.